Bentornati finalmente in questo nuovo video, come potete notare qua ho le nuove cuffie della Sony E vabbè, unboxiamole, le ho pagate 20 invece che 40, buonissimo prezzo, la scatola è spondata Perché ovviamente non mi arriva, me l'hanno lanciata Aspettate, ovviamente da Amazon Ah, mi si è aperta Ma come qua potete vedere abbiamo questa magnifica custodia Non ci serve a nulla Poi abbiamo le cuffie e basta Ah, stranamente non c'è il... No, scusate Stranamente, ma mi chiedo davvero il motivo Non c'è il cavo, cioè non ci sono le istruzioni Vabbè Testiamole queste cuffie Le abbiamo qua perché non ci stiamo Aspettate, andiamo aprendo il tablet E possiamo iniziarle a testare Allora Prendo il mio video Prendo il mio canale Aspettate un secondo Vediamo il mio nuovo video Aspettate qua, ve lo mostro anche a voi perché andate, cercate Marco Barbaro E quello lì che ha fatto soltanto due video C'è un video C'è un video E ha tipo due, tre, quattro iscritti E andate a guardarlo Per primo impatto Secondo me si sente molto molto bene Tra un po' di giorni arriverà la recensione completa Io provo a mettere una canzone Io provo a mettere una canzone Perché spero che YouTube non mi blocchi il video Ma adesso provo a mettere una canzone Scrivo capo plazza perché voglio mettere Tesla Non mi taggate, non mi eliminate il canale per piacere YouTube Metto una canzone che conoscete più su tutti I ragazzi che guarderanno questo video Spero che sapranno di cosa si tratta Metto Tesla Sentiamo un po' Faccio al massimo Faccio al massimo